Santi prova a mettere un po' d'ordine Carjuni, solito grande movimento la palla lunga, cercare Shawinga male la difesa del Milan dentro la rigore Shawinga il tiro in porta di Tabita e arriva il raddoppio dell'Inter con Tabita e Shawinga gol da bomber vero questo di Tabita sempre devastante in campo aperto non perdona una nuova ingenuità della difesa rossonera